Si chiamano larghe intese, a Roma sono state battezzate diversamente, vengono conosciute come il patto del Nazareno, e cioè l'accordo tra Renzi e Berlusconi sulla legge elettorale ed altre riforme. Si fanno ovunque, si fanno a Roma, si fanno quindi anche in periferia. A Taranto ieri il nuovo presidente della provincia è stato eletto grazie alle larghe intese, larghe intese sottoscritte tra Forza Italia e buona parte, anzi metà, Partito Democratico, cioè quella parte che non si è riconosciuto nella linea del segretario regionale Emiliano, il quale si era opposto a questi accordi e aveva anzi imposto un suo candidato che è stato sonoramente sconfitto. Alla vigilia delle primarie per l'investitura, candidato governatore del centro-sinistra, suona male questa sconfitta, la sconfitta di Taranto per Emiliano. È un campanello d'allarme, da non sottovalutare, vuol dire che la campagna elettorale, quella vera è iniziata e da ieri per lui, lui non è più il solo candidato a farla e quindi non è più il solo a poter raccogliere tutti i consensi dei pronostici. Il precampionato Emiliano l'aveva fatto da solo, vincendo tutte le partite amichevole e diventando così il favorito finale. Però ieri c'è stata la prima di campionato e alla prima giornata le provinciali di Taranto, l'impatto con la realtà è stato fulminante. Il campionato è ben altra cosa, così come gli altri concorrenti, si tratta d'altra parte di due pezzi da 90, quelli che lo affronteranno nelle primarie, Guglielmo Minervini che attrae molto l'elettorato giovanile e Dario Stefano che se vogliamo è il tipico prodotto delle larghe intese, delle larghe vedute, la sua carriera politica parte dalla democrazia cristiana, arriva a SEL per cui oggi è senatore. Ecco, se le larghe intese dovessero applicarsi alle regionali, se dovessero condividerle anche gli elettori, Emiliano avrebbe buttato via due anni di attesa perché sarebbe Stefano il candidato del centro-sinistra, più flessibile, più inserito, più politico, più credibile, se vogliamo più Renziano e più Berlusconiano di essi stessi e più Sorgnone sa aspettare il momento giusto e Taranto gli ha offerto l'occasione d'oro per dimostrare che in politica non sempre vince chi parte per primo.